Ciao a tutti e benvenuti a tutti i nostri amici! Voglio che ci siamo tutti! Allora, oggi diciamo ai nostri seguaci su youtube e su instagram tutte le cose nuove che avete imparato quest'estate perché ce lo chiedono sempre Allora, iniziando le due piccolette, perché da quando siete entrate in agonistica, che sono pochi mesi, avete imparato un sacco di cose Ce ne dite un po' per una Allora, le prime cose, vai! Melli, voce alta! Vai! Rovesciata avanti e indietro Partiamo da corpo libero Per terra, rovesciata avanti, rovesciata indietro, le avete imparate, giusto? Sì Altre cose per terra? Flick Flick Che lo stiamo un po' migliorando, vero? Non è ancora perfetto, però lo stiamo facendo E? Capriola indietro arrivati in piedi E poi, l'ultima cosa che avete imparato è il? Salta avanti Ok, a tumbling, vero? Senza il tappetino d'arrivo Invece, a trave Vai! Rovesciata indietro Rovesciata indietro, Sara? Mi rovescio Melli Sulla trave alta Bravissima Io, se il mio tappetino, la rovesciata indietro Ok E la ruota E la ruota Che la stiamo un po' sistemando, vero? Sì Tutte e due Sì, ogni tanto caschiamo Ok Poi, parallele Vai, Sara Mezza volta Quindi, mezza volta E poi? Giro addominale Alissa Il giro addominale Sì, lo stiamo provando Quindi, giro addominale Stiamo provando Ancora migliorando E anche la kip La stiamo provando E so che qualcuno Si è appeso anche Allo stagio alto Per la prima volta La nostra coraggiosona Poi, cosa manca? Volteggio No Come no? Beh, dopo la volteggio Io arrivo a 30 anni Anche lamelli E l'andata E l'andata Ora tocca alla Chiara Cosa abbiamo imparato Quest'estate? Ma c'è un corpo libero No, andiamo in ordine Corpo libero Dobbio Dobbio Eh, ti sembra qualcosa? Dobbio Eh? L'andata Pinto Poi Teso 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 Sono set Teso appuntamento Tre quarti Si sta provando A fare l'uno Si vede che stai succedendo Poi a trampolino I due abitamenti E i due abitamenti Però che penso Di sapere che Non sapevo da fare Ok, parallele La gran volta Di petto Di dorso Ok La gran volta Di petto Di dorso Circa 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 La gran volta Ok Poi cosa manca? Volteggio Volteggio E la cosa Tipo la giughera Volteggio Praticamente state iniziando A fare la preparazione Per usare la tavola Per impostare Gli zucchara Giusto? Perché da quest'anno Voi avrete Tavola in gara Tu E la Lelena Invece L'anelli Non avrà ancora La tavola Ce l'avrà l'anno prossimo Poi Volteggio Vai Rivalta 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 Ok Cosa ci manca? Trave Trave Cosa ci faccio C'è la riccura L'ignata Il L'invito Il Salto Dietro Flick Mi ricordo Se l'avevo già fatto Flick Ah sì La ruota senza Quei tappeti La ruota senza Quei tappeti Ancora In preparazione Sì E basta Beh va bene Dai Direi che abbastanza Roba Passiamo All'elena Allora Rivalta Flicca Avvitamento Rivalta Flicca Avvitamento E Teso Avvitamento Ah E poi Rivalta Flicca Rivalta Rivalta Flicca Doppio Anche A trampolino Quello Avanti Perché l'avete provato Tutte e tre Insieme Teso Teso Basta Poi Andiamo a Trave Trave Anche 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 L'avete provato Senza Sì Hai fatto Beh sì che hai fatto questo Ah allora L'avete provato Senza E E basta Ok Direi che è sufficiente pure questo Volteggio Volteggio E Rivalta Terni Con la Terni Ok E Basta Ok E cosa manca Parallele E A Ok Basta Gran volta Di dorso Ok Nelly Partiamo da Corpo libero Sempre Ho fatto Nonato Flick Doppio Di baltata Abitamento Sette E E Credo Basta Tampolino Doppio Avanti E Due Abitamenti Ok Parallele Capo Morto Meditical Stander La Morta Di dorso Basta Musica 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 Fliq Salto Accorto Fliq Fliq Terni Fliq Fliq Tesonizzato Che l'hai fatto anche in diretta l'altro giorno? Sì Rota senza Salto indietro E l'onata Salto In uscita Ok Raccolto Sì Ovviamente E poi anche La preparazione Sempre a tavola Ho fatto Di baltata E l'onata Ok Volteggio Sempre E l'onata Fliq Con i tappeti Basta Musica 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 Ciao a tutti Sì 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 Il tutorial Il tutorial Della Inutazione Ok Iscrivetevi al canale E attivate la campanella No!